a Roma perché si sta svolgendo la cerimonia di avvicendamento del capo della polizia Vittorio Pisani che succede a Lamberto Giannini. L'evento a Roma si sta svolgendo presso la scuola superiore di polizia ha preso la parola qualche istante fa appunto Vittorio Pisani e questa cerimonia si sta tenendo appunto come detto a Roma e all'evento sancirà quindi ufficialmente Pisani nel ruolo di capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza ed è presente anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi questo quanto sta accadendo a Roma vi daremo conto nel corso della giornata